Gesù Gesù ritorna in Galilea dopo l'esperienza delle tentazioni nel deserto. All'inizio della cosiddetta vita pubblica di Gesù, Luca accompagna i passi di Gesù con la presenza dello Spirito, presente sia nel battesimo, poi appunto nel deserto e adesso nel ritorno in Galilea. Al battesimo dove viene rivelata la identità di Gesù, la sua figliolanza divina. Nel deserto dove viene rivelata la strada che Gesù intende percorrere come Messia. E' qui in Galilea dove viene rivelato l'annuncio, il suo contenuto e il suo esito. Ritorna in Galilea con la potenza dello Spirito, con quella potenza che aveva vinto le tentazioni. E' la potenza del bene. Per avere un'idea potremmo avvalerci di quello che San Paolo dice nella lettera ai Galati, 5.22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, bontà, mitezza. Questa è la potenza dello Spirito. Inoltre questo ritorno in Galilea ci fa vedere come agisce la logica dell'incarnazione. Gli ambienti che vengono descritti sono come una specie di zoom. La Galilea, Nazareth, la sinagoga. Ogni ambiente, dal più piccolo al più grande, può essere vissuto attraverso questa potenza dello Spirito. Ma il ritorno in Galilea di Gesù viene anche accompagnato dalle tentazioni, che non sono rimaste nel deserto. E adesso invece che sulla bocca del tentatore appaiono sulla bocca dei suoi compaesani, le possiamo notare attraverso due espressioni. La prima, non è costui il figlio di Giuseppe, come dire, lo conosciamo già, non ha nulla di nuovo da dirci. La fatica di tenere insieme quelli che potremmo definire diversi aspetti di Gesù, che compongono il suo mistero. Quello che la voce dice al battesimo, tu sei il figlio mio, l'amato. Quello che dice poi il tentatore, se tu sei il figlio di Dio, adesso non è costui il figlio di Giuseppe. Sembra che le origini siano troppo umili, eppure sono proprio in queste origini umili che trovano espressione le caratteristiche di Gesù, anche la sua divinità. E poi l'altra frase degli abitanti di Nazareth, che rivela appunto la loro resistenza. Quanto è fatto a Cafarnao, fallo anche qui. È davvero una messa alla prova, una pretesa. Questa gente non è disposta ad accogliere un dono, pretende, si chiude alla rivelazione che Gesù porta. E allora possiamo chiedere al Signore anche noi la grazia di vivere nella nostra Galilea, in quella che è la nostra esperienza quotidiana, non cercando cose straordinarie, ma vivendo queste cose con la potenza dello Spirito di Gesù. Buona preghiera. Grazie a tutti.